Oggi vi porto con me al frantoio a trasformare in olio le olive che abbiamo raccolto. Step numero uno, rovesciare tutte le cassette con le olive dentro questa mega cassetta. Io, troppo orgogliosa che siamo riuscite a raccogliere tutte queste olive in un solo giorno. Step numero due, la pesa. Quest'anno ne abbiamo raccolte tre quintali e quattro. Step numero tre, le olive vengono riversate nella tramoggia. Un enorme contenitore a forma di piramide rovesciata con un buco al centro che è collegato ad un rullo trasportatore. Questo rullo pesca piano piano le olive e le porta alla vasca di lavaggio dove vengono appunto lavate e separate dalle foglie. Questo è il terzo anno che facciamo l'olio. Il procedimento è sempre lo stesso, ma ci emoziona sempre. Giunte le olive a questo punto, dobbiamo passare nell'altra stanza dove avvengono le fasi di frangitura e gramolatura. La pasta di olive, ottenuta tramite la frangitura appunto, viene mescolata lentamente per favorire la fuoriscita dell'olio e l'aggregazione delle singole gocce in gocce più grandi. Dopo questi passaggi, la pasta di olive arriva a un grande decanter e sfruttando l'accelerazione centrifuga, separa la parte liquida costituita da acqua e olio da quella solida, ovvero la sansa. Dopo l'estrazione col decanter, la parte liquida viene centrifugata per separare definitivamente due elementi. Alla fine di tutto questo processo possiamo stoccare il nostro olio novello. Eccolo qui in tutta la sua bellezza. Il frantoglio ha detto che la resa è stata 10.6. Credo sia buona, ma non me ne intendo così tanto. Comunque, anche quest'anno ce l'abbiamo fatta. Se vi va, lasciate un like e un oliva nei commenti. Ah, e seguitemi per rimanere aggiornati. Un bacino!